Giovedì 28 dicembre 2023, una fine dell'anno funestata da una delle più gravi tragedie stradali che hanno colpito la nostra provincia di Pesaro Urbino in epoca recente. Ci troviamo di fronte alla Galleria Cagulino sulla strada statale 73B, siamo alle porte di Urbino e a una manciata di chilometri da Fermignano, galleria che oggi è chiusa al transito per le verifiche strutturali dopo l'immane tragedia di ieri. Ieri pomeriggio c'è stato infatti un incidente frontale che ha visto quattro morti, incidente tra un'ambulanza della Potes di Fossombrone che si stava dirigendo all'ospedale di Urbino e un pullman proveniente da Grottamare che trasportava tanti bambini tra i 7 e i 16 anni, circa una quarantina che sono comunque rimasti tutti illesi nell'impatto, ragazzini accompagnati da sacerdote e educatori che erano in vista proprio a Urbino. Un impatto tremendo che è stato ricostruito dalla polizia stradale sul quale si sta ancora indagando perché sembrerebbe che ci sia stata un'invasione di corsia da parte dell'ambulanza, un impatto frontale che poi ha creato un inferno di fuoco con una colonna di fumo visibile per chilometri che è stato fatale per gli occupanti dell'ambulanza. Incendio tra l'altro alimentato proprio dalle esplosioni delle bombole di ossigeno, tre bombole presenti all'interno del mezzo della Potes. Dicevamo quattro i decessi, tutti gli occupanti dell'ambulanza, si tratta di tre membri del personale sanitario, a cominciare dal medico Sokol Oxa, 41 anni, di origine albanese, papà di un bimbo di appena quattro mesi, dicevamo albanese che si è laureato in medicina all'Università Politecnica delle Marche e poi ha cominciato a prestare servizio appunto alla Potes di Fossombrone. Cinzia Mariotti, 49 anni, infermiera originaria di Acqualagna, anche lei è mamma, Stefano Sabatini, 59 anni, autista soccorritore di Fossombrone e poi il paziente che veniva trasportato, Alberto Serfilippi, 85 anni, che veniva trasportato per quello che era un trasferimento d'ordinanza per complicazioni respiratorie che meritavano un ricovero ospedaliero, dunque non un trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Urbino e invece il trasporto si è tramutato in una tragedia. Di contro la tragedia poteva essere bene peggiore perché sono tutti salvi gli occupanti del Pullman, un Pullman che dicevamo trasportava parrocchiani della parrocchia di Cupra Marittima e Grotta Mare nella Scolano è stato fondamentale il sangue freddo dell'autista e la quarantenne della Canali Bus di Monteprandone che ha fatto scendere tutti i bambini dal retro del Pullman mettendoli in salvo uno a uno. Ci sono stati nove ricoveri in ospedale non gravi a Urbino e Pesaro di queste sette bambini, tanto spavento ma soltanto qualche escoriazione, tutti già dimessi, compreso l'autista che era appunto ricoverato per accertamenti. Tanti naturalmente anche gli attestati di Cordoglio per una tragedia che tocca nel cuore perché si tratta anche di tre morti sul lavoro, tre morti su un lavoro sensibile come quello degli operatori sanitari che sono simbolo di altruismo, che hanno perso la vita durante il loro dovere. Tanti attestati dalle massime cariche istituzionali a cominciare dalla Regione Marche, dal governatore Acquarole fino al sindaco di Fossombrone Massimo Berloni che ha proclamato lutto cittadino proprio per il comune di Fossombrone. E ora continuano le verifiche sulla galleria, galleria che resta chiusa qui sulla statale 73 Bisper che c'è stato un incendio importante che potrebbe forse avere minato anche la stabilità della struttura, verrà verificato tutto nelle prossime ore e poi continuano le indagini della Polizia Stradale su quella che è una tragedia davvero senza eguali in epoca recente.